Posso salire? Sì, 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 sì. allora è spento ma è spento ero su in cabina va bene hai ragione ma ero su in cabina non c'era nessuno scendo e faccio il giro quando ti ha fatto lo streggio no hai ragione no hai fatto il giro perché non hai fatto il giro perché c'erano quelli che facevano la foto solo per quelli ma è vero che cazzo è che passi che non vedo un cazzo è vero hai ragione no hai ragione per carità no no ma è vero se prendi certe abitudini sbagliate è brutto quindi è sempre meglio 10 flessioni 10 flessioni lo dice lo riconosce lo dice lui è uno spettacolo perfetto c'è il risultato si allora lo parli che hanno accidato non è vero non è vero non è vero è vero non è vero ti ho ripreso anche adesso così sei salito sei scelto perso tutto grazie